Ciao a tutti, io sono Edoardo e guiderò insieme a Stefania la lezione di yoga terapia. Le finalità sono l'allinamento posturale, la decompressione articolare e la stimolazione degli organi interni. È una lezione adatta a tutti, anche se hai qualche piccolo problema, ad esempio una lombregia meccanica o una rigidità in collo. Se invece hai qualche problematica un pochino più severa o se sei in una fase acuta, è meglio consultare un professionista e stare un po' attenti prima di iniziare a fare questi esercizi. Io sono Stefania e con Edoardo mi occuperò del corso Yoga Base, un corso adatto a tutti, sia che siate la prima volta che praticate, sia avviate già un'esperienza nello yoga. Andremo a vedere delle posture ma anche delle sequenze fluide in modo da lavorare consapevolmente attraverso il corpo, connettendoci con il nostro respiro e cercando di aumentare la nostra presenza e la nostra consapevolezza. Spero di vederti al corso, ricordati un tappetino, una copertina, non mangiare proprio immediatamente prima di praticare. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!